Ciao a tutti ragazzi sono Aldo e questo è il mio canale oggi in questo video vi do un'idea regalo, una piccolissima idea regalo guardate, questo è un bellissimo vasetto secondo me guardate, è un bellissimo vasetto con dei piccoli ciuccetti all'interno ed è una bellissima idea regalo, in pratica questo vasetto l'ha ricevuto mia madre il regalo non da me, da un'altra persona però secondo me potete regalarlo anche voi a chi vi pare è facilissimo realizzarlo è un vasetto comune, diciamo, degli omogenizzati all'interno ci sono, diciamo, tipo dei piccoli ciuccetti che tanto tempo fa si vendevano ma secondo me in commercio li trovate ancora, proprio per dare il colore e poi sopra c'è un piccolo tappino di zucchero che potete anche ricavare dal tappo dello spumante lo intagliate come si deve con un attrezzo adeguato e lo ricavate e poi questo piccolo pasticcino sopra anche questo è molto facilmente recuperabile, insomma, in merceria, in un negozietto di nicchia e così avete composto una sorta di soprammobile secondo me molto bellissimo da vedere questo qui è stato comperato però, come vi ho spiegato, è molto facile da realizzare ho deciso di darvi queste dei regali nel caso vi potesse interessare spero vi piaccia noi ci vediamo domani con un altro nuovissimo video come sempre condividete, iscrivetevi, lasciate like e attivate la campanellina per ricevere tutte le notifiche a domani, ciao!